Ehi era solo questione di tempo dopo Damien Ernst anche il fotografo JR annuncia il suo primo progetto nft in collaborazione sempre con Eni. Greetings from Giza questa è la collezione formata da 4591 nft tanti quanti sono gli anni della piramide di Giza in Egitto protagonista del nuovo scatto del fotografo francese un progetto unico nel suo genere digital perché mette in dialogo l'installazione SAI specific che in questi giorni campeggia di fronte al grande monumento egizio con quello digitale basato su blockchain le rarità previste per gli nft sono davvero uniche tutte legate alle piramidi ai suoi geroglifici senza che manchi col slay la spirale aurea il costo per ogni nft parte a 250 dollari ma solo pochissimi infortunati potranno aggiudicarselo su selezione come per tutti i progetti djr il successo sembra essere assicurato a presto